Ma oggi con l'accensione della TBM Margherita dimostriamo come in Sicilia le cose si possono fare e si fanno anche bene. Nel 2019 questo candiere, grazie all'impegno del governo Musumeci, è stato aperto. Sembrava un'opera incompiuta, un'opera abbandonata, perduta e invece finalmente il 18 aprile 2019 abbiamo avviato questo importante candiere. Oggi è arrivata una produzione del 40%, si accendono i motori della talpa Margherita che potrà scavare questa importante galleria. Nel 2025 l'opera sarà consegnata alla fruizione pubblica e sarà consegnata a questa porzione di territorio che è quello di Cefalù che rappresenta una delle perle della nostra isola.